Un via vai ordinato e silenzioso di pellegrini anche questa mattina sotto la porta santa della basilica di Colle Maggio che ieri prima di mezzogiorno Papa Francesco ha aperto il primo pontefice ad aprire la porta santa dando inizio al giubileo, il più antico della storia, quello che permette ai fedeli di ottenere l'indulgenza penaria, passando attraverso la porta sinceramente pentiti e confessati. La porta santa viene rinchiusa stasera per dare appuntamento alla prossima perdonanza, ma l'indulgenza si potrà lucrare sino alla perdonanza 2023 per concessione del Papa stesso. Tanti aquilani a vivere l'emozione del passaggio, impreziosito dalla visita di ieri del Papa, in città del resto non si parla d'altro, ma anche tanti turisti e fedeli venuti da fuori città. Un brivido, è semplicemente un brivido perché è stata una cosa importante. Lei è di qui? No non sono di qui, sono di Macerata, Marchè. Senta, ha assistito anche ieri alla visita del Papa? No, 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 non abbiamo assistito ieri. Conosceva la perdonanza e è venuto apposta? Sì, siamo venuti apposta. è bello comunque qui, ancora mi prendono i brividi. Un'emozione forte, specialmente dopo la visita del Papa perché anche altri anni sono venuta, però quest'anno è stato veramente più particolare. Lei non è di qui? Io sono nata all'Aquila ma vivo da più di 60 anni a Roma. Ha partecipato anche ieri a... Sì, sì. Com'è stato? Una cosa meravigliosa, stupenda, partecipazione poi di tutti, è stata una cosa commomente. Bisogna aprire le nostre porte a Gesù, questo è il... la verità, no? Com'è stata questa perdonanza? Ieri, insomma, c'è stata la visita del Papa, com'è stata? È stato un evento storico molto importante, ecco, dopo 720 anni la Chiesa ha riconosciuto, insomma, questa... la cosa che ha fatto Celestino V. Dentro la Basilica, tante messe, questa mattina per le famiglie, per le forze dell'ordine, con tutti i sacerdoti della diocesi, non solo impegnati nelle confessioni. L'emozione è grande, si tocca con mano. Già di per sé la perdonanza è una delle feste più care ai cittadini dal punto di vista religioso e storico, ma quest'anno la perdonanza ha fatto un balzo in avanti notevole. L'Aquila, capitale del perdono, così l'ha definita lo stesso Papa, con il merito del cardinale Petrocchi di essere riuscito nell'impresa di portare il pontefice in città, con la collaborazione di tutti, in un momento davvero indimenticabile, che resterà nella storia e che leva l'Aquila e il messaggio di Celestino. Penso che la visita del Papa abbia almeno posto un interrogativo. Come ci si pone di fronte a cose che dichiariamo sublimi, cioè eccezionali? Come ci si pone? Si può rimanere ancora nell'indifferenza? Questo interrogativo penso che sia una bella risposta di riscossa morale, non soltanto per la città.